Cos'è che può confortare in queste giornate uggiose, piovose, in cui si sta in casa, si sta al computer, si lavora? Forse che Ferrari è per il terzo anno consecutivo una società equal salary? Equal salary, sì, invece di dire equitare, tributire, no, equal salary, allora uno è confortato, dice beh allora ci sono ancora dei dementi in giro, anche perché poi subito dopo c'è scritto la tutela della diversity e inclusion, D-E-L, delle risorse umane è una delle chiavi del successo di ogni società, capite? Se una società ha successo è perché c'è la diversity e inclusion e allora sei confortato, dici ma allora ci sono dei dementi veri, c'è idiosia, c'è e c'è anche nel progettiamo macchine automatiche per industria farmaceutica, partecipa all'evento di recruiting online dedicato ai laureandi, save the date, save the date, ti enti a mente questa data? No, save the date, allora siete tutti dei deficienti, allora si sta molto meglio, anche quando piove e sei confortato, dici sì, siamo insieme a della gente giusta, che va avanti, che ha futuro, perché se ha questa testa noi siamo tranquilli, tranquilli, job opportunities, job opportunities, lucue, zing, 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 zing.